Bentornati al nostro consueto appuntamento quindicinale. Tra l'ultima trasmissione, questa che sta andando in onda, abbiamo avuto quella manifestazione dei giovani avvenuta venerdì 15 marzo, questi giovani che sono scesi in piazza a manifestare per l'ambiente e lo slogan era questo, non c'è più tempo, nel senso che ormai siamo arrivati al livello di non ritorno con i cambiamenti climatici che stanno avvenendo. Ed è un'accusa soprattutto per chi come noi a nostra età ha creato questo mondo, però attenzione ragazzi, dobbiamo fare delle distingue, c'è chi ha sempre combattuto per migliorare o per sensibilizzare l'opinione per cambiare le cose, chi invece ha il potere è sempre andato per la sua strada perché questa società non ha la finalità quella di costruzione di valori d'uso, di beni che possono servire all'umanità nel continuo riciclo, nel cambio organico fra uomo e natura. La finalità di chi ha in mano i mezzi di produzione è quella di stare bene solo loro, infatti oggi c'è lo slogan dell'occupi Wall Street di 1 a 99, cioè l'1 sta bene e i 99 stanno male. Perché vi dico che molti si sono dati a fare anche in anni più gui in cui l'ambiente di ambiente non se ne parlava. Già nel 1970, negli anni 70, fu su commissione del Club di Roma, fu commissionato un famoso lavoro di previsione intitolato i limiti dello sviluppo. Attraverso tecniche basate su modelli dinamici dell'economia immessi nel computer, si dimostrava che era ormai vicino, quindi già negli anni 70, il limite oltre il quale si sarebbe innescato un processo irreversibile di degenerazione dei rapporti economici mondiali fino alla catastrofe. Il punto di non ritorno veniva collocato intorno al 1975. Gli autori vi ricordo erano del MIT, quindi dell'istituto o gli universiti. Gli autori mettevano naturalmente in guardia contro l'interpretazione meccanica del modello, perché lì nel 1970 avevamo modelli rudimentali, non è che avessimo, non c'erano i computer iperpotenti come adesso. E quindi dicevo che, attenzione, non è meccanica la cosa, ma facciamo notare anche che pur apportando modifiche realistiche ai parametri, sarebbe sì cambiato l'asse temporale, quindi magari non 75, ma 80 e via dicendo. Ma non il risultato catastrofico. 20 anni dopo, venne ripetuto lo stesso esperimento, potenziato e aggiornato con i dati di previsione e i dati che si erano accumulati in questi 20 anni. Il risultato però non cambiava, non che il punto di catastrofico era nel 1975, ma che si andava sempre più velocemente a un punto di non ritorno. La simulazione non modificò quindi in sostanza i risultati precedenti, confermando quindi che i limiti erano già stati superati. Secondo il modello, l'umanità avrebbe potuto ancora salvarsi, ma a costo di un gigantesco sforzo concentrato e coordinato fra tutti gli stati della Terra, per determinare la qualità degli investimenti e abbassare la soglia del rischio. Nessuno però in grado di dire come ciò si potesse realizzare. Nello stesso periodo, molti economisti o comunque studiosi che si dedicavano ai problemi economici a partire dalla dinamica dei sistemi, cercavano di dimostrare in innumerevoli pubblicazioni che l'umanità è molto vicina ad una bifurcazione, oltre la quale vi è o la correzione dirotta dell'economia mondiale o la catastrofe. Alcuni prendendo a modello le leggi della fisica, dimostrarono l'entropia del sistema capitalistico, cos'è l'entropia? Cioè la perdita di energia, l'avvio verso situazioni caotiche, per cui si sarebbe potuto raggiungere una stabilità solo attraverso un blocco ragionato dei parametri economici, quali investimenti, crescita, demografia e la loro armonizzazione con l'ambiente. Altri, su richiesta delle Nazioni Unite, dimostrarono con modelli diversi e più sofisticati che l'umanità si sarebbe avviata verso una insostenibile ulteriore differenziazione tra coloro che avrebbero avuto sempre più e coloro che avrebbero avuto sempre meno. Altri ancora, resentando il misticismo, sostennero che occorreva addirittura destrutturare il capitalismo e far ritorno a tecniche produttive più naturali, con meno impiego di energia e meno ricorso a materie prime altamente inquinate, con la rinuncia delle tecnologie esasperate e del consumismo. Quindi siamo già, non è vero che i scienziati non avessero avvisato i politici, però si è sempre taciuto perché altrimenti questo avrebbe minato lo stesso sistema di produzione di cui noi viviamo. Io vi posto due cose a riguardo dello studio del Massachusetts Institute of Technology, quindi questo studio commissionato dal Club di Roma negli anni 70, dove uno, mi trovate alla Treccani che vi spiega un attimo che cos'è questo studio attraverso questo studio del limite del suo video. Poi l'altro, con l'altro link potete tranquillamente, non è molto voluminoso, andare a trovarvi il PDF, quindi lo studio scansionato, cosa diceva quello studio, quindi ve lo potete tranquillamente leggere. Non è che non se ne fosse parlato in tutti questi anni, anche il sottoscritto e altri compagni hanno messo in discussione più di qualche volta il modo di produzione e come si produceva in quegli anni pagandone anche di persona la cosa. Perché andare a intaccare o toccare, andare a mettere in discussione la produzione voleva dire per i colleghi di lavoro mettere in discussione quello che facevano. Io mi rendo conto che i lavoratori dell'ILVA, chi mette in discussione quella produzione e l'inquinamento di conseguenza che viene fatto da quella fabbrica, rischiano il posto di lavoro, ma rischiare il posto di lavoro o morire non so quale sia la cosa migliore. Io lo so, ma è che manca una visione, di una possibilità di una società diversa, non basata sul profitto, una società diversa dove per esempio sono le produzioni che vanno dove c'è bisogno, non il lavoratore che deve muoversi e fare 50-60 km al giorno, anche 100 km al giorno per recare sì in quel posto di lavoro. È il sistema che obbliga, altrimenti viene schiacciato a far sì che distruggere tutti i concorrenti per avere e accapararsi le fette di mercato, creare penuria di cose in modo tale che chi ne ha bisogno deve pagare, deve rincorrere per avere il bene che viene prodotto. L'altra puntata della mia trasmissione abbiamo parlato di quanti camion girano in Italia perché portare, perché ormai i magazzini sono su camion, su ruoto, in modo tale da risparmiare sui costi di magazzini semilavorati vanno a destra e a sinistra in modo tale da essere sincronizzati perché il magazzino è portato su camion. Allora oggi per esempio ci c'è la tecnologia, senza per esempio la tecnologia delle stampanti 3D, si dovrebbe pensare a fare la produzione a, tipo come in agricoltura, chilometro zero, dove questi semilavorati non girano per il mondo, quindi non ci sarebbe bisogno di TAV, non ci sarebbe bisogno di autostrade, non ci sarebbe bisogno di tutte quelle auto che vengono prodotte per far spostare le persone. E l'altra volta accennavamo anche al fatto delle auto a batteria, oggi il sistema ci pompa, fra virgolette ci dà qual è la soluzione per cui loro prevedono già di avere un guadagno, di avere un profitto, è l'auto a batteria, ma sappiamo benissimo che non ci sono batterie sufficienti per creare tutto quel parco macchine che oggi sono sulle strade, ma il dato fondamentale ci farà pensare che la materia base, ci fa pensare, chi vuole pensare, la materia base per costruire le batterie è concentrata in certi luoghi, soltanto in certi luoghi ed è scarso, del pianeta, fra cui uno è il Venezuela. Io non dico che il caos che sta succedendo in Venezuela non sia colpa di Maduro e tutto l'entourage, quello che stanno facendo, però sta di fatto che tutti vogliono mettere le mani su quei giacimenti di materia prima che sono fondamentali per la costruzione di batterie. Ma continuando sulla nostra scia, della nostra ricerca e chi vuole informarsi, io do sempre le mie coordinate dove chi vuole può approfondire la cosa. Non tanto tempo fa al Politecnico di Torino, in una serie di conferenze con il titolo Costruire il futuro, nel novembre del 2017, i relatori a questa conferenza erano Ezio Andretta con il tema la situazione italiana nel quadro internazionale e Roberto Gigolani con il tema i nuovi sviluppi tecnologici, descrivono molto bene a che punto siamo arrivati, a che punto siamo con la tecnologia e che ci sono le tecnologie per cambiare, per far sì che ci sia abbondanza di prodotti per tutti e distribuito su tutto il mondo. È il sistema che fa da tappo. Questo è il link su YouTube, è un po' lunga, la trasmissione è un'ora e mezza, ma vi garantisco che è uno spasso sentire e noi dovremmo porci il problema perché non attuiamo queste cose. Attuare queste cose non è come ho letto sui giornali, sabato il decalo, i 10 punti per risparmiare per l'ambiente e quindi salva guardarlo. Attenzione, non possiamo confondere la maleducazione con un sistema di inquinamento. Io faccio l'esempio banalissimo, i led sulle luci, i led che bisogna spegnerli e i led che sono sulle televisioni. Perfetto, sono d'accordo. Ma quando noi andiamo a un supermercato ci sono centinaia e centinaia di televisioni accese dalla mattina alla sera perché queste devono invogliare il consumatore a comprare. Chi è che fa più inquinamento? È il led? Io sono un po' anziano, ma quando a casa mia arrivò la prima televisione non c'era il led, ci si alzava, il pulsante si accendeva la televisione e quando si andava a letto ci si rialzava dal divano, se lo avevamo, e spegnevamo. Per noi non cambiava assolutamente niente. O altro esempio che portavano il decano, il fare il lavaggio alle lavatrici con la temperatura un po' più bassa dell'acqua in modo tale da risparmiare energia. Ma non ti vengono a dire che la lavatrice oggi dura metà come tempo di quando? Di tanti anni fa. Perché? Non lo decidiamo noi. Ci sono fiorfiori di ingegneri che studiano i materiali ma non per far durare di più questi elettrodomestici che poi dobbiamo buttare via perché non ci sono, non sono fatti per essere riparati e quindi facciamo, in veneziano si dice facciamo scoas e quindi riempiamo le discariche di tutti questi oggetti che sarebbero, potrebbero durare tantissimo ma non siamo noi sulla produzione, cioè l'ultimo arrivato, l'uomo di strada, l'uomo che compra la lavatrice, non siamo noi che decidiamo il tempo di durata, lo decide chi fa la produzione, chi ha tutti gli interessi che si adoperi questo oggetto e duri meno che sia possibile in modo tale da ricomprarlo e rigenerare il ciclo produttivo ma all'interno del ciclo produttivo ci sono anche i lavoratori che vedono di buon occhio che si possa vendere sempre di più lavatrici perché loro così hanno lavoro, avendo lavoro hanno il salario e via dicendo. Su questo le organizzazioni sindacali non si sono mai espresse, vi dico che da 30 anni per esempio che non si parla di una riduzione di un minuto di orario di lavoro perché altrimenti i costi di produzione aumenterebbero, sono costi di produzione, il denaro è un'invenzione sociale, non è una cosa che è sempre esistita ma il denaro fa sì che il valore che è stato creato, cioè da chi costruisce i prodotti, da chi poi si sporca le mani il valore è minore di quello che viene dato come salario in modo tale che uno si pone il problema ma come mai esistono il profitto, come mai uno si diventa sempre più, si ingrandisce, si ingrandisce perché vende e vende cosa? Il lavoro fatto da altri, io posso benissimo, do il merito a chi organizza, l'ingegnere che organizza la produzione che è una funzione sociale positiva ma che il lavoro delle persone poi venga venduta e possiamo chiamarlo padrone ma non esistono più, esistono ormai funzionari, i funzionari che vendono il prodotto hanno un ritorno economico che poi magari distribuiscono agli azionisti e non fanno niente, sono solo dei rentier si spartiscono gli utili, ma l'utile viene fuori da chi effettivamente materialmente ha fatto la produzione e su questo, scusate se vi riempio di informazioni, su questo vorrei farvi vedere due cose uno è dato ed è interessante, per me sono scioccanti le immagini che ho visto uno è dato dalla stampa, del quotidiano la stampa, del 4 marzo del 2018, quindi un anno fa e vi mostra del parco macchine immenso che la Volkswagen ha costruito, cioè ha dovuto fare perché per il ritiro delle auto, sapete quel discorso dello scandalo del software, quindi dell'inquinamento guardate quanto spreco di energie, quanto spreco di risorse si fa a nome del profitto, però voglio darvi anche una nota positiva dove ci sono fiorfiori di ingegneri i quali attraverso, c'è un signore che si chiama Jacques Fresco, lui è un ingegnere, una vita che si dedica a coniare la progettazione di oggetti, case e anche città in nome della compatibilità, va a dire che lui dice che il denaro può esistere una società senza denaro, che è la penuria che fa sì che noi siamo gli ultimi e come è sottoscritto siamo sottomessi perché dobbiamo lavorare, dobbiamo vendere la nostra forza lavoro e invece con quei sistemi che lui dice c'è la possibilità di creare abbondanza per tutti se c'è una razionalità, un modo giusto di distribuire la ricchezza. Quindi soluzioni ci sono, bisognerebbe modificare, cioè più che modificare bisognerebbe abbattere questo sistema di produzione che è quello che fa sì che ci sta autodistruggendo in poche parole. Però ai giovani che hanno manifestato tutta la loro entusiasmo, la loro voglia, si appellavano ai governanti perché cambino le cose, i governanti invece che messaggio danno? I governanti danno questo occhio e per loro parlano gli intellettuali e l'articolo di, vi leggo due righe, un articolo di Ferruccio De Bortoli apparso domenica sul Corriere della Sera, il quale invita questi giorni ad andare a votare, quindi votate e poi ci pensiamo noi. Infatti c'è il Parlamento europeo promosso in vista delle consultazioni del 23-26 maggio addirittura una piattaforma web che si chiama stavoltavotto.eu in 24 lingue, quindi la preoccupazione è che i giovani non vadano a votare. L'ambiente è al primo posto tra le preoccupazioni di coloro che si iscrivono, la richiesta è anche quella di avere dei volontari che promuovono la partecipazione. L'ufficio di Milano attualmente ne conta 11.000 contro i 12.500 di Berlino, segno di un crescente interesse soprattutto giovanile per le tematiche europee, ma molti dei volontari italiani non potrebbero candidarsi a differenza dei loro coetanei tedeschi, perché i tedeschi possono candidarsi a 18 anni, invece noi italiani devono compiere 25 anni per candidarsi. Allora cos'è? La preoccupazione delle istituzioni europee è quella di coinvolgere il maggior numero di giovani e di combattere non solo la sfiducia verso le funzioni dell'Unione, ma anche l'apatia nei confronti della partecipazione al voto in una democrazia rappresentativa. Ecco, questo è il vero problema. Addirittura questi governanti che poi diranno, beh, che si sono sempre fino a due giorni fa, a tre giorni fa, dimenticati dell'ambiente, si riscoprono ambientalisti e quindi voi giovani che non potete andare a votare, votate me che faccio io il vostro portavoce, voi continuate a rimanere lì tranquilli e io continuerò ad amministrarvi. Infatti il giorno dopo su Rai News 24 sentivo un'intervista ai politici di tutto l'arco costituzionale italiano, dalle 5 Stelle alla Lega, al PD, nessuno parlava male della manifestazione dei giovani, anzi tutti davano indicazioni, assicurazioni davano assicurazioni che loro avrebbero in Parlamento portato avanti le istanze dei giovani. Oggi se voi leggete i maggiori giornali non riportano più una riga dell'ambiente ma parlano di PIL, di tasse, che se noi poi alla fine andiamo a vedere il PIL, cosa vuol dire? Vuol dire aumento della produzione, vuol dire quindi più camion che girano perché devono essere di più altrimenti il PIL non va su, ci deve essere più spreco, non c'è una razionalizzazione della produzione e so perché oggi la Gabanelli scrive sul Corriere della Sera quanto prendono i politici europei. L'indenità di fine mandato, dice la Gabanelli nel suo articolo di di stamane sul Corriere, per i 27 membri della Commissione Europea figurano nel bilancio del 2019 con 690.000 euro. I loro stipendi lordi totalizzano 12.650.000 euro, più o meno al mese, più o meno come un operai insomma. Circa 3 milioni in più rispetto al 2017. Secondo calcolo riferito a un regolamento del Consiglio per le alte cariche UE, il Presidente Claude Juncker, che ha elogiato i giovani, riceve oggi circa 27.000 euro l'oro di mensili, a cui vanno aggiunte le indennità e tolto un prelievo di solidarietà del 7% più un'imposta pro UE. Guadagna il 138% in più rispetto al funzionario UE di più alto grado, mentre chiede agli Stati e quindi agli Stati, quindi anche a noi, lacrime e sangue. su questo articolo lo potete leggere tutto su questo link che vi do e potete leggere come perché le cose non cambieranno mai se non ci muoviamo in prima persona e deleghiamo. In fondo la manifestazione dei giovani non dà fastidio a nessuno, tranquilli e lì si protesta l'importante che diate il voto, si dia il voto a quei personaggi. Chiudo ricordando che riporto una piccola cosa di Carlo Marx scritta sul libro primo del Capitale perché è la via perché uno produce, perché la società produce non come oggi perché produciamo per il profitto, ma dice che il processo lavorativo è attività finalistica diretta alla produzione di valori d'uso. Cioè cose che ci saranno vestiti, scarpe, questi sono valori d'uso. Appropriazione del dato naturale per i bisogni umani. Noi ci appropriiamo di quello che la natura ci dà. Condizione universale del ricambio organico fra uomo e natura, premessa naturale dell'eterna della vita umana e quindi indipendente da ogni forma di tale vita, come anzi a tutte le sue forme sociali, quindi alla forma sociale anche del Capitale. oggi in questa società non c'è questo modo di lavorare, ma c'è soltanto la rapina per arraffare chi ha in mano i mezzi di produzione, calpestare tutte le regole di convivenza naturale e sociale per diventare sempre più potenti. quindi è un monitor, è un grido che faccio contro questa società che si sta uccidendo tutti. Un momento di riflessione su questo ci farebbe bene. Io concludo, vi ringrazio di essere ancora molto numerosi che mi seguono e spero che aumenti il numero di chi mi ascolta. se le trovate interessante fatelo sapere a Radio Science mandando un piccolo messaggio o scrivendo la mail che trovate nel sito di Radio Science. Vi saluto tutti e vi attendo numerosi, come sempre, la prova fra 15 giorni. Ciao a tutti! Ciao a tutti!